Il video di Arezzo TV dell'aggressione al giovane arbitro che si è consumata a Castel San Nicolò è diventato virale nelle ultime ore, con migliaia di visualizzazioni. Ripreso da numerose testate giornalistiche e anche dalla popolare pagina Facebook Calciatori Brutti, rimane un episodio di pura violenza senza alcun senso. E per il responsabile si annuncia una punizione esemplare, anche se il verdetto del giudice sportivo potrebbe slittare alla prossima settimana. Lo scenario è quello della terza categoria. In campo sono presenti il Castel San Nicolò e la Forti Sarezzo che conduce per 4-0 quando siamo al settantesimo minuto. L'arbitro estrae il cartellino rosso ai danni di un calciatore del Castel San Nicolò che per tutta risposta assesta un calcio alle ginocchia del fischietto che decide di terminare lì l'incontro. La decisione del giudice sportivo, o per meglio dire la stangata, arriverà nei prossimi giorni così come il verdetto sull'omologazione o meno del risultato del campo al momento della sospensione della gara subito dopo il fattaccio. Lo scenario più probabile è che venga omologato il 4-0 che consentirebbe a Massimiliano Pecorari di stabilire un record per la classifica a marcatori, oltre a garantire in caso di classifica vulsa un gol in più rispetto al 3-0 a tavolino. Al di là della questione meramente sportiva, resta un brutto episodio da condannare senza alcuna tenuante.